Sicuramente proporrò un incontro già questa settimana per avere un centrodestra compatto. Qualcuno in maggioranza, qualcuno all'opposizione, ma alcune battaglie parlamentari di riduzione del carico fiscale vanno portate avanti in maniera compatta e penso che ad esempio le nuove assunzioni fra le forze dell'ordine possano essere una battaglia di tutto. Il centrodestra sia di chi è in maggioranza sia di chi è in opposizione quindi proporrò già entro questa settimana una riunione per fare iniziative comuni sugli emendamenti. Oggi c'è la scadenza quindi penso che ci vorranno due o tre giorni per capire quali sono i inammissibili, quali sono i inammissibili. Io penso che si voterà Alberto, correggimi se sbaglio, si comincerà a votare dall'inizio di settimana prossima sugli emendamenti quindi dobbiamo avere una posizione comune prima dell'avvio del voto.